Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo la Rock Rider Race 900S. Fino a poche settimane fa era il top di gamma di casa Decatron riguardanti le competizioni cross country via ammortizzata. Ora è stata soppiantata dalla Race 940S, nera e rossa. Sul sito Decatron potete vederla, ma non è disponibile per l'acquisto. Ora però sigla e poi andiamo a vedere la Race 900S. Ovviamente in descrizione troverete il link per andarla ad acquistare o a vederla direttamente sul sito Decatron. La bici ha un costo di 3799,99€ così come la vedete in queste registrazioni. Si può trovare in quattro versioni, ma ve ne parlerò dopo. Per quanto riguarda il peso iniziamo subito a dire che varia da 11,7 kg per la taglia S, fino a massimo 12 kg per la taglia XL. Il telaio è interamente in carbonio, a differenza del modello precedente che aveva il carro in alluminio. Abbiamo un'escursione di 120 mm sia all'anteriore che al posteriore. Regisella monta un 31,6 mm. È compatibile con il regisella telescopico con passaggio interno. Il telaio ovviamente ha il perno passante sia all'anteriore che al posteriore. E il movimento centrale è un press fit. Per quanto riguarda il manubrio abbiamo una larghezza di 72 cm ed un attacco manubrio che varia in base alla taglia. Va dai 60 mm per la taglia S, seguendo 70 mm taglia M, 80 mm taglia L, 90 mm taglia XL. Attacco manubrio Rock Rider, molto molto accattivante. I freni sono degli SRAM Level T con diametro del rotore da 180 mm all'anteriore e 160 mm al posteriore. Per quanto riguarda la trasmissione abbiamo la possibilità di decidere se montare un elettronico o un cambio meccanico. In entrambi i casi il cambio montato è un GX Eagle. La guarnitura monta un 32 denti ed è compatibile con il 30 o 36. La cassetta è un 10-52, quindi molto interessante questo range di lavoro. Abbiamo all'anteriore una sospensione RockShox Reba RL da 120 mm di escursione, come vi dicevo. Per quanto riguarda l'ammortizzatore posteriore abbiamo RockShox Seed Lux Select Plus, classica misura, 190 x 45. Anche per quanto riguarda le ruote abbiamo due configurazioni da poter scegliere. La prima opzione sono i Mavic Crossmax del 2022 in alluminio. La seconda opzione molto interessante ed è quella che vedete nelle riprese sono i Reynolds TR309 289 XC 29. Pesano 1.665 grammi e sono in carbonio. Sono garantiti a vita se vi registrate sul sito Reynolds. Come Sell abbiamo una affezina Argo Dentro e pesa solo 230 grammi. Il Regisell invece è in carbonio ed è lungo 35 cm o 40 cm in base alla taglia. I copertoni che monta la bici sono dei Kraken da 29 x 2.3 all'anteriore, al posteriore invece un Kraken con protezione antiforatura sempre da 29 x 2.3. Dopo avergli fatto il classico pippone sulla componentistica di questa bici che è veramente ottima, vi posso dire più o meno come va la bici. La bici è una bomba, ovviamente essendo un top di gamma a questo prezzo è difficile trovarlo in giro. È molto rigida, si riesce veramente a spingere un sacco in salita, difatti ha un'impronta molto da competizione. In discesa va benissimo. La bici è accessoriata anche con un combo lock che riesce a chiudere sia la sospensione anteriore che quella posteriore. I copertoni sono quelli che montano ormai tutte le XC, quelle vecchie, e hanno una buonissima tenuta. Anche la vecchia XC100 ce l'aveva e mi sono trovato super bene. Ora vi lascio alcune riprese del giro in bici che abbiamo fatto per testarla. Ovviamente non ero da solo, ero con Amedeo. Vi lascio in descrizione il link del suo Instagram che è molto attivo. Dai dici questa quasi fine esperienza, dici com'è andata, dici com'è andata, le tue impressioni. Molto bello. Bellissimo. Figgata. Boia. Yes. Molto bella. Mamma. Che bomba però. Figgata. Ustia. Bellissimo. Qua era la salita che ti dicevo che ci saremmo spaccati. Senza fiatone tra l'altro. Come fa? Come fa quest'uomo? Vai non mollare, non mollare. Non mollare. Sì, sì. Siamo usciti. E dopo sono tornati. Dio bo. Una bestia. Dai, adesso qua, Veccio, preparati. Sì, sì, bisogna scendere alla bici. Ah, ok. No, lo vogliamo fare, dai. No, lo vogliamo fare, dai. Pronto, così si dai facciamo. No, no, è possibile. No, no, no. No, no, no. Non diamo piedi. Qua c'è un salto là che puoi prendere piano oppure non farlo. Bello il salto! Tra l'altro non fai neanche fatica a te a tenerla. Stai vici? Bastardo! Mamma mia, che giolli! Ah, ok. Madonna! Mi hai visto? Porca troia! Ecco! 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 Mamma! Che salvataggio! Che salvataggio, vecchio! Stai morire. Aspetta, ma appena un macello! Come potete vedere, non l'ho guidata io la bici perché era una taglia piccolina e per me non andava bene però l'ho usata in una piccola parte di salita e non andavo in bici da un annetto e mi sono trovato super bene perché la potenza espressa nei pedali veniva dissipata veramente poco grazie a tutta questa componentistica e a uno studio molto molto approfondito della bici. Come dicevo in precedenza abbiamo due possibilità per quanto riguarda la trasmissione e due possibilità per quanto riguarda i cerchi. Cosa vuol dire? Possiamo decidere di montare dei cerchi in carbonio col cambio meccanico o dei cerchi in alluminio col cambio elettronico e viceversa. Quella che vedete nelle riprese è il top di gamma cioè cambio elettronico con cerchi in carbonio. i prezzi per quanto riguarda le altre configurazioni sono 2500 euro per il gruppo meccanico con ruote in alluminio 3000 euro per le ruote in carbonio ed il gruppo meccanico 2800 euro per il gruppo elettronico e ruote in alluminio e 3800 euro per il top di gamma con ruote in carbonio e cambio elettronico. Se avete qualsiasi domanda riguardo questa bici scrivetela pure nei commenti e risponderò il prima possibile. Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato utile per chi aveva qualche dubbio riguardo questa bici. Ci vediamo nei prossimi video che saranno un po' diversi per quanto riguarda temi e modi di trattare questi argomenti. Quindi non perdetevi, iscrivetevi al canale e ci vediamo più avanti. e ci vediamo in prossimo video. Grazie.